Balzo della Lega di Matteo Salvini. Fratelli d'Italia stabile e Forza Italia in leggera crescita. Il centrodestra avanza secondo l'ultimo sondaggio SWG illustrato in diretta da Enrico Mentana durante l'edizione serale del Tgla 7 sulla 7. Di questa sera 20 febbraio. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta sempre il primo partito. Senza variazioni al 31%, seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,7% e crolla così al 17%. Quello 0,7% lasciato per strada dai grillini lo guadagna invece il Partito Democratico che recupera qualcosa e sale dunque al 15,8%. Molto bene il Carroccio. Appunto. Il partito guidato dal Vice Premier Salvini guadagna quasi mezzo punto percentuale e sale quindi al 9,3%. Bene anche Forza Italia di Silvio Berlusconi che prende 1,0,1% e si attesta al 6,2%. Non va altrettanto bene per il Terzo Polo. Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi che perdono un 0,4% e scendono così al 7,4%. Continua poi a perdere consensi l'alleanza verdi sinistra italiana di Fratoianni e Bonelli che calano di 1,0,2% e si fermano al 3,4%. Per cento. Per cento. Per cento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.